per questa meditazione scegli un posto tranquillo scegli la tua posizione per meditare una posizione che tu possa mantenere senza disagio con la schiena estesa le mani morbide sulle ginocchia o nel mudra della conoscenza indici e pollici a contatto lascia andare tutto ciò che può crearti disturbo pensieri inutili sentimenti negativi riconnettiti con il tuo respiro lascia che avvenga segui il suo ritmo senti la sua cura torna al respiro ogni volta che ti ritrovi a seguire un pensiero superfluo senti il viso che si distende ed un residuo di tensione che scivola via dalle tue spalle dal collo senti di essere centrato e perfettamente tranquillo sentiti completamente in pace e per nulla influenzato dalle lusinghe o dalle critiche in grado di impegnarti in ogni cosa con dedizione e devozione ma anche capace di distaccarti dal risultato finale senti che il tuo sguardo verso il mondo è pieno di riconoscenza e pace che il tuo sguardo riesce a scorgere del mondo la verità e la bellezza se rivolto all'interno ma profondamente connesso con tutti gli altri esseri inizia a percepire un senso di gratitudine prendi coscienza di tutto ciò per cui hai motivo di essere grato riconoscente lascia che affiorino alla coscienza le immagini delle persone care mantienile lì vicino a te consenti a tutti questi pensieri positivi amorevoli e generosi di occupare tutti gli spazi un pezzo alla volta così da eliminare ogni sentimento nocivo ansia rancore rabbia qualsiasi cosa che ancora ti impedisce di sentirti completamente in pace senza fretta e senza giudicarti lascia che avvenga questa piccola trasformazione dimora quindi in questo spazio dove tutto è chiaro calmo luminoso e confortevole e ancora senza giudizio prova a condurre la tua mente in pura meditazione alla ricerca dell'assenza di pensiero lascia che accada non forzare niente la meditazione come il sonno semplicemente avviene rimani pronto ad accogliere recettivo e lascia che avvenga namastè